Ciao, siamo qua con i Mon che hanno appena suonato sul palco del Monk il loro release party del loro primo album. Ragazzi, vi hanno chiesto il bis. Cioè, quali sono le vostre impressioni? Cosa è successo là sopra? Il delirio? È stato intenso. Andiamo ancora a scendere, stiamo ancora... Mamma mia. Ragazzi, voi presentatevi un po' in breve. Chi siete? Una persona che non vi conosce? Chi siete voi? Siamo in un gruppo, suoniamo insieme. Siamo molto amici. Ci vogliamo molto bene. Sono diversi anni che suoniamo insieme e... E oggi è uscito il nostro CD. È un giorno importante oggi. Quindi è un giorno molto importante. Dopo tre anni di lavoro sul disco. Che si chiama, ricordiamo? Zama. Zama. Yes. Zama. E niente, ci abbiamo lavorato per tre anni e adesso è finalmente arrivato il giorno in cui il disco esce. Ok, sul palco avevate una specie di porta fortuna. Che cos'era? Abbiamo notato una cosa... Una maschera. Una maschera. È un segreto in realtà. È ancora un segreto che verrà svelato più in là nel corso dei giorni. Ah, ok. Un segreto in realtà. Sì. Per ora sì. Mi sneak peek, come si dice. E prossimamente che cosa farete? Cosa avete in progetto? Abbiamo un tour. Un tour di festival quest'estate. Abbiamo... Iniziamo dal crack. Tante prove da fare. Tante prove. Quelle sicuramente. Un altro disco da fare, no. Un altro disco da fare. E un altro disco eventualmente. E poi qualche altro singolo magari da far uscire. Se dite, artisti a cui vi ispirate, proprio ho tre nomi, due nomi, così. Beh, primo della lista, i Falls. I Falls al JXX. Ah, i Falls. All... All XX. No, gli XX. Quindi i Falls. Voce maschile femminile più forse gli After Khan. Ciao Daimon.